l'ho lavata ieri è bellissima queste qua non vanno via qualche problemino con la ruggine però vuota fa il riscaldamento il riscaldamento acceso tirandolo su spento tirandolo giù poi abbiamo qua le nostre ventole questa è per quella di dietro questa è per quella davanti accendendo solo quella di dietro in brevi in brevi attimi si riscalda molto velocemente tutto l'abitacolo senza menzionare anche i sedili il riscaldamento dei sedili sono provati un paio di volte davvero davvero ottimi come riscaldamento allora come si usano le ridotte lunghe ridotte lunghe ridotte corte ridotte lunghe le ridotte lunghe si possono inserire quando il veicolo in movimento e quindi una velocità di 5 km orari proprio appena appena che vada avanti quindi funzionano tirandole verso l'interno la stessa cosa per le ridotte corte funzionano tirandole verso l'interno non ho ancora avuto modo di usarle non sono andato a fare percorsi rossi o un rumore modello sommergibile nel tubo dello sterzo però per adesso le ruote girano quindi quando l'ho ritirata lo specchietto era cioè era qua giù in fondo era guardate la differenza da dove era era veramente molto 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 distante spostarti e con questo qui a ventosa ho coperto il ho coperto il problema oh buggy my friend abano bagagliaio tanichetta extra di benzina ho tolto l'impianto a grassi e cose varie borse della spesa amaca sono 180 rimani sdraiato perfettamente e si vede benissimo cioè ci sto giusto giusto col cuscino dietro it's ok tappetino lounge divanetto mezzaluna mi diventa un letto rotondo bellissimo per quanto riguarda l'acqua che entra togliere guarnizione vetro fare il ceiling e dopo di che rimpiazzarla dai è bella o no ma dai ma è bellissima annunciato nel video precedente ecco qui la ruggine fessure e che piano piano butta fuori diciamo che la macchina non è stata montata bene prendiamo la scusa va bene è una what the fessure uscirà la ruggine le fessure uscirà la ruggine prendendo in considerazione che la macchina sia stata montata male è stata montata e alla fine ho visto una fotografia che la riprende con tutta la ruggine quindi problemi a parte andiamo avanti the show must go on and so is the what that's it take che ragazzi ciao